E' complessivo il risanamento del territorio con lo spostamento delle ecoballe, perché se noi spostiamo un ecoballe e facciamo venire le televisioni, questo non serve ai cittadini, serve dire abbiamo iniziato e si continua. Se noi spostiamo uno adesso e un'altra fra tre anni e poi un'altra fra cinque anni, noi fra vent'anni stiamo ancora a spostare le ecoballe. Grazie. E' così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni e risposte immediata. Sospendiamo a questo punto la seduta che riprenderà alle ore 16 e 15 con il seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge recanti e disposizione in materia di partiti politici, norme per favorire la trasparenza e la partecipazione democratica. La seduta è sospesa. Grazie. 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 Grazie.